Il provvedimento era nell'area da qualche giorno. La scorsa notte è arrivata l'ufficialità. La meridia in palacanestro monsumano ha comunicato di aver sollevato Alessandro Fantozzi dall'incarico di capo allenatore della prima squadra. Fatale per l'ex playmaker di Livorno, Roma e della Nazionale la sconfitta di domenica scorsa contro il Custorino. Una battuta d'arresto pesante che relega la squadra del presidente Cardelli all'ultimo posto della classifica da sola, con un record tutt'altro che brillante di due successi in 11 partite. La guida tecnica è stata pertanto affidata ad Andrea Nicolai che debuterà nel suo nuovo ruolo nella prossima partita del 28 dicembre con la formazione termale impegnata a Pavia. Nicolai, 46 anni compiuti a novembre, è alla sua prima esperienza come capo allenatore di una squadra senior. Da coach Nick ha iniziato la sua carriera come tecnico dell'Under-19 del Montecatini Sporting Club, risultando anche assistente di Federico Barzotti nella prima squadra in Serie B. La scorsa estate, dopo la mancata iscrizione di Montecatini al campionato cadetto, era stato chiamato a collaborare con Fantozzi.